Vi leggerò un racconto di Ennio Flaiano, tratto dalla raccolta Le ombre bianche. Il titolo integrale è dei timbri e dei ladri, ma di ladri non parleremo, quindi dei timbri. Dopo la calata dei goti, dei visigoti, dei vandali, degli unni e dei cimbri, la più rovinosa per l'Italia fu la calata dei timbri. Erano costoro barbari di ceppo incerto, alcuni dicono autoctoni, dall'aspetto dimesso e famelico che ispiravano più pietà che terrore. Invece di assediare le città e passarle una volta occupate a ferro e fuoco, essi usavano introdurvisi a piccole frotte, senza darne l'occhio, e vi si stabilivano a spese della comunità, rendendo piccoli servigi inutili, ma che col tempo venivano ritenuti indispensabili. Ben presto ci si accorgeva che era impossibile fare qualcosa senza di loro, né promettere, né mantenere, o andare a nozze, o vendere. Portati per natura a discutere di ogni cosa e all'approfondimento implacabile, cavilloso delle più semplici leggi e costumanze, i timbri si trovarono a possedere le chiavi di tutto. Senza la benevolenza di un timbro non si poteva nemmeno morire, e se questo vi pare assurdo vi dirò che si poteva sì morire, ma non essere creduto. Nel tempo furono fatte varie leggi per contenere la loro preponderanza, ma tutte erano viziate all'origine dalla necessità che anche per rendere esecutive quelle leggi occorresse un timbro. La moltiplicazione dei timbri, estremamente prolifici, era anche favorita dalla pratica che questi barbari affermarono, sospettosi come erano anche dei propri simili, di doversi approvare l'un l'altro, sicché diventavano necessari in numero sempre maggiore. La vostra identità, la vostra nascita, la vostra famiglia, i vostri beni, il semplice fatto che siete in vita tutto è messo in dubbio dall'assenza di un solo timbro, e così essi hanno stabilito che nessun cittadino può dirsi esistente senza il loro totale consenso. Colpita alla radice, la società patriarcale e nominale cadde preda di questi barbari, che ancora oggi governano l'Italia con il più semplice e astuto dei mezzi, ignorandola, anzi immersi nella contiva contemplazione della loro forza, che nessun mutamento ha mai potuto domare, poiché è dimostrato che i mutamenti eccitano i timbri fino al delirio. Per un po' scompaiono, ma subito tornano più forti e resistenti di prima, come succede del resto con certe specie di insetti e sempre con nuove idee.